macro categoria imprese categoria insurance il premio è quello di eccellenza dell'anno assicurazione dei crediti commerciali la motivazione per essere per il nono anno consecutivo il leader nell'assicurazione dei crediti e del risk management al fianco del governo per il rilancio del sistema industriale italiano segnato dalla pandemia per sostenere le imprese negli scambi commerciali sul mercato interno e su quello estero grazie a soluzioni mirate e innovative il premio va a cofas italia e sul palco con me eccolo che arriva dalla nostra platea il sio ernesto de martinis eccolo che arriva complimenti per il nono anno consecutivo eccolo qui il vostro premio complimenti grazie prego si accomodi dicevo per il nono anno consecutivo leader nell'assicurazione dei crediti e del risk management e beh le chiedo un commento su questo premio anche alla luce dell'anno che abbiamo vissuto è il premio bello più più sofferto proprio perché conseguito nell'anno orribilis della nostra economia del nostro paese così duramente attraversato dalla pandemia e quindi per noi è stato veramente il premio più devo dire più bello in assoluto perché conseguire un anno così difficile devo dire che ci ha messo a dura prova ma che ci ha fatto anche scoprire tante cose molto interessanti no una compagnia molto resiliente una compagnia agile degli agenti per il nostro business model si fonda sugli agenti che sono stati capaci di adattarsi in maniera molto rapida al nuovo contesto economico pandemico molto difficile quindi grandi sorprese e grandi ovviamente soddisfazioni beh poi insomma il rilancio del sistema industriale italiano segnato dalla pandemia questo è importantissimo al fianco del governo e il sostegno delle imprese in tutti gli scambi commerciali sia interni nel nostro paese sia all'estero sì grande soddisfazione anche questo per la prima volta il nostro sistema assicurativo privato si è confrontato si è unito con il sistema pubblico e quindi con il governo attraverso la garanzia di rassicurazione della sacce siamo riusciti a garantire gli scambi commerciali tra le imprese e quindi abbiamo contribuito anche noi al rilancio diciamo del sistema industriale italiano e a conservare a preservare gli scambi commerciali ottimo allora si può avvicinare il premio che va a tutto il team cofassi italia eccellenza dell'anno assicurazione dei crediti commerciali grazie però non deve scendere dal palco perché c'è un'altra sorpresa in questa premiazione delle fonti awards rimaniamo ancora nella macro categoria imprese e nella categoria insurance perché c'è il premio CEO dell'anno assicurazione dei crediti commerciali e leggiamo la motivazione che sta alla base di questo premio per la capacità di unire alla necessità di raggiungere importanti risultati di business un'attenzione costante a dipendenti agenti credit manager e clienti per l'approccio resiliente al fianco di tutti gli stakeholders e ruolo di interlocutore di riferimento delle istituzioni per il rilancio del paese altra frase che ritorna anche in questa motivazione il premio va a lei Ernesto De Martinis cofassi italia naturalmente CEO è allora un ulteriore riconoscimento più bello esatto quindi doppio riconoscimento prima abbiamo parlato del nono anno consecutivo per cofassi italia e si unisce anche questo premio per per lei insomma le chiedo un altro commento a questo punto ma insomma grande soddisfazione un premio che ovviamente voglio condividere con il mio team con gli agenti con il personale con cofassi che ci ha supportato in questo periodo molto difficile e quindi è un premio collettivo quindi non è mai un premio individuale certo prima abbiamo parlato già di come è stato questo anno per cofassi le chiedo ancora di più visto che abbiamo questo ulteriore riconoscimento CEO dell'anno su quali progetti obiettivi in particolar modo se ce ne vuole indicare qualcuno intendete focalizzarvi nei prossimi mesi abbiamo target ambiziosi l'anno scorso è stato avviato il nostro piano industriale triennale che si chiama build to lead un piano molto ambizioso un piano che ci vuole vedere consolidare la nostra leadership nell'assicurazione dei crediti e nelle cauzioni ma anche con lanciare nuove linee di business l'abbiamo fatto l'anno scorso con la business information con grandi successi e quindi ecco vogliamo replicare anche questi successi quest'anno e nei prossimi anni ottimo allora ricapitolando sempre per imprese insurance eccellenza dell'anno assicurazione dei crediti commerciali e CEO dell'anno assicurazione dei crediti commerciali per cofass italia Ernesto de martinis CEO di cofass allora può appoggiare il microfono perché deve prendere anche l'altro premio e quindi le mani sono due e però direi che vale la pena mostrarle entrambi in telecamera e per le foto di rito eccoli qua complimenti naturalmente ci rivediamo l'anno prossimo perché magari saranno tre l'anno prossimo sarete dei nostri non al microfono ma detto di sì e ve lo sicuro assolutamente va bene grazie grazie grazie